Good morning Milano, buongiorno a tutti, ciao Fabio, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti, buongiorno Cristal Radio, buongiorno Milano News, buongiorno Milano, good morning Milano, lunedì 2 ottobre, prima puntata di ottobre, prima puntata di ottobre, prima di una lunga serie di puntate di ottobre, tutti i giorni siamo qui quando? Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9 su Cristal Radio, 96.2 FM, app, sito, sito di Milano News, Youtube e Twitch di Milano News, contenuti scaricati illegalmente, no, su Napster siamo anche se c'è ancora un Napster, non so cosa siamo, no mamma mia, il primissimo pirata da cui si scaricavano, no, io no, no, non l'ho mai fatto, però nel senso era il primo sito diciamo un po' così illegal da cui si potevano trovare le canzoni. Tutto legale, contenuti che sono registrati in queste due ore, poi tagliati e pubblicati sui vari profili social, se volete scriverci lo diciamo subito, 331-78-53555. Questo è il numero di Whatsapp, potete scriverci, mandarci foto, mandarci video, audio, tutto quello che volete, noi poi non rimandiamo in onda, ma soprattutto potete condividere insieme a noi la mattinata milanese a questa giornata, così, o due ottobre fa un caldo pazzesco comunque ancora, stamattina mentre attraversavo il cortile della radio, così mi piace questa immagine così, faceva un caldo pazzesco e comunque, comunque, vedremo le versioni del tempo, che oggi comunque danno grande sole e, appunto, temperature in aumento, ma prima di tutto, un po' di musica. Gali, insieme a Madame, 7.09 minuti, lunedì 2 ottobre, ricordiamo appunto, quindi è iniziato ottobre, così, lo diciamo anche lì che magari sei, iniziando il mese di domenica, no? Cioè, magari uno se ti distrae e pensi ad essere ancora settembre, capito? Magari sei col weekend, è appunto, quindi oggi, quindi dobbiamo dirglielo, capito? E magari lui in giro dice, oggi è il 31 settembre, no, no, invece no, invece no, è il 2 di ottobre, è il 2 di ottobre e tutto va bene, credo, non lo so, chiediamolo a Lorenzo Masieri con i giornali locali, l'informazione locale su Milano. Giornata che segna un po' un cambio di passo, quella di lunedì 2 ottobre. Bella miseria. Vabbè, nel nostro piccolo, nel nostro piccolo, perché oggi 2 ottobre... Nel loro piccolo, più che altro. Nel loro piccolo, no, vabbè, stavo parlando di area B e area C. Ah, scusa! Quindi, no, 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 stavo parlando del prima lì, del segretario del PD è cambiata, no, ok, scusa. Cosa succede? Nuovi divieti per area B e area C che scattano oggi, lunedì 2 ottobre. Adesso voglio vedere come fai a farci capire chi non può entrare. No, no, infatti, chiaramente non lo do, io vi invito a leggere qualche articolo in cui viene spiegato per bene chi può entrare, chi non può entrare, due le parole d'ordine, titola Milano Today, più sicurezza e meno inquinamento. Citiamo, adesso non stiamo qua a dire, euro 0, 2, 2 e mezzo, 3 più 1, meno 4 alla seconda. Facciate qualcosa, cercatelo. Ci ho fatto. Questa volta vi diciamo proprio, andate a cercare nuove regole area B e area C e guardate perché è veramente incomprensibile. Se no, qua saremo molto troppo tempo. Perché tu ce l'hai il FAP. Eh? Tu ce l'hai il FAP. Non so cosa sei a fare. Eh, vedi, non ce l'hai il FAP. Non so cosa. È una di quelle robe che se ce l'hai può entrare, se non ce l'hai non può entrare, è il filtro antiparticolato nei diesel, ad esempio, no? Cioè, vabbè, vi limitiamo a dire solamente due cose velocissime. Che tu ce l'hai il FAP? No, niente. La prima, velocissima, aumenta il ticket dell'area C, ma sappiamo benissimo, però non da oggi, ma dal 30 ottobre. Però è nel pacchetto, diciamo, da 5 euro passerà ai 7,50. 7,50. Ai 7,50. E l'altra novità è quella che i mezzi pesanti debbono avere per forza segnalati gli angoli ciechi. Dispositivi di sicurezza? No, quello no. Però devono essere segnalati gli angoli ciechi. Non è che vanno installati dei dispositivi di sicurezza per gli angoli ciechi sui camion, ma devo mettere degli adesivoni con scritto... Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scatta l'obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell'angolo cieco. E' un po' la francese. Non so se hai mai visto i veicoli francesi che hanno quell'adesivo, un tipo Pond Mort, c'è scritto una roba del genere. Sì, un punto di morte. Un punto di morte, appunto. Cioè ti dicono, se tu vai lì, sei finito. Eh, non c'è il rischio. Questa è la notizia che, diciamo, cambia un po' l'assetto cittadino. Cittadino, per quanto è la viabilità, cambia altre cose nel setto cittadino politico, invece. Politico, quindi nel primo blocco mi fai sparare tutte e due le notizie. No, va bene. Allora ce la teniamo per dopo, va bene, va bene. No, comunque, scherzi a parte, sono tante le deroghe, sono tante le novità, eccetera. Quindi, siccome è molto complicato, ci sono molte, non molte sigle, però come possiamo dire, molte eccezioni, molte cose. I vari euro vanno poi in base, appunto, se c'è l'offitto particolato, se sono prima di una certa data, dopo di un'altra data. I kilowatt, i cilindrati, il cilindrato, il peso, forse anche, ci sono delle cose. Cioè, è veramente complicato. Andate a vedere, dopodiché credo che in realtà se andate sul sito del comune e mettete la vostra tagga, ve lo dice già lui. Quindi, siete tranquilli, magari io così, non lo farei oggi, lo farei domani, che siamo sicuri che il sistema l'hanno aggiornato. Così, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Parliamo di viabilità, parliamo di traffico, quindi ci colleghiamo con Luce Verde per avere tutta la situazione del traffico in diretta su Milano. Ermia, Brescia, Fabi Friba, Parafulmini. Questi sono il trio che ci ha portato questa canzone, la triade delle 7 e 17 minuti. E quando continuiamo con le notizie, sempre inerenti comunque al trasporto, al trasporto generale. Abbiamo parlato, abbiamo sentito Luce Verde, il traffico che in aumento appunto sulle arterie. A proposito, scusa se ti anticipo, le pressioni del tempo di oggi danno appunto giornata solleggiata con gradazioni che si alzano oltre di nuovo i 23-25 gradi. Quindi insomma, 2 di ottobre ancora in giro in maglietta e pantaloncini volendo. Ok, quindi meglio da una parte perché siamo ben tranquilli e anzi scongiuriamo l'accensione dei riscaldamenti sempre più lontano, per fortuna, visto gli aumenti dei prezzi. Dall'altra, gente, riflettiamo, gente, riflettiamo. Sempre diciamo trasporti, cosa succede? Cosa è successo anzi ieri? Beh, alla fine, sì esatto. Riprendendo un po' la notizia di prima, è chiaro che la prima, diciamo, la prima... Ricordiamo RAC, nuovi dividere RAC, come fare ad evitarli? Il primo effetto, esatto, di restrizioni di questo genere sarebbe incentivare la mobilità pubblica. Mobilità pubblica che ieri è stata al centro del famoso click day, è presente che si dice sempre click day, quando c'è... Sì, non c'è click day per tutto, cioè dai miglietti di Vasco... È una cosa che a me dà fastidio, è una cosa che a me dà molto fastidio, sto click day. Al bonus trasporti. Al bonus trasporti, ieri click day del bonus trasporti, sono esauriti i fondi, la piattaforma, quindi è stata disattivata. Ministero del Lavoro, tra le 8 e le 16.51 di oggi, sono stati prenotati 213.000 e passa ticket per un valore pari a 12,2 milioni di euro. Quindi 12,2 milioni di euro stanziati dallo Stato per sostanzialmente incentivare la mobilità pubblica. Ricordiamo che il bonus trasporti ha un contributo fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili, vali di proprio mese, annuali, eccetera. Può essere richiesto. Vanno in base appunto a ISE. Esatto, può essere richiesto alle persone fino... Non vanno però in base a quello che vuoi prendere, perché tu te lo danno, poi dici tu cosa prendere, giusto? Esatto, esatto. Quindi se sono 60 euro e hai diritto a 60 euro e fai il mensile, ogni mese va a scalare un po' di roba, credo, no? No, credo che se prendi il mensile si è rapportato. Ah, ok, perfetto. Cioè 60 euro è il massimo che poi ti danno, ok, perfetto. Però è chiaro che la tua spesa deve essere superiore. Superiore, superiore a quello. Entro i 20.000 euro di ISE. Ecco, entro i 20.000 euro di ISE. Però tanto adesso non si può più richiedere, se l'avete fatto, buono per voi, sennò... Tu ricordi il click day del bonus biciclette durante... Sì, sì. Fantastico. Quel giorno è stato veramente un giorno di delirio nazionale, cosa si sarebbe da definire. Comunque, diteci, 331-78-535-55 e voi l'avete preso il bonus trasporti? Ce la fate ad avere questi 60 euro di sconto sull'abbonamento dell'ATM? Boh, chi lo sa? Ditecelo, 331-78-535-55. Ricordate che se volete essere su dei mezzi pubblici, ma non volete essere i passeggeri, ATM sta assumendo e vi paga pure la patente. È vero. Ricordiamoci questa cosa. È vero, c'è questa alternativa volendo, è vero. Bravo, bravo, l'olio. C'è un'alternativa. Se magari non avete avuto diritto al bonus trasporti, potete sempre provare l'altra strada. E guidare. Cioè diventare dipendente ATM e guidare direttamente l'A57, ve la guidate voi, così almeno non dovete stare lì a diventare matti. E vi pagano anche. Quindi, insomma, vi pagano anche la patente perché c'è questo problema. Che poi potete usare per i fatti vostri. Perché chi è che non ha un... C'è che non ha un pullman così, in giardino, da portare in giro gli amici al mare. Va bene. Continuiamo invece con la musica. Crystal Radio, Marshmallow, Bye Bye, alle 7 e 21 minuti. No, non è Bye Bye. Siamo ancora qua. 7 e 23 minuti, siamo qui, Bye Bye niente, siamo qua. Un battito di ciglia, Bye Bye. Dura pochissimo, dura pochissimo. Ma perché? Sai che c'è questo trend nuovo del far durare poco le canzoni perché così si adattano meglio ai TikTok. Eh, lo so. È proprio una roba, una legge quasi discografia che sta arrivando ovviamente da chi? Da quelle altre parti là, oltre c'erano, dove fanno tutto in funzione di tutto e quindi hanno deciso. Infatti, se non fai una piccola coreografia non sa nessuno. No, infatti. Dopodiché sto pensando che ci sono canzoni dei Beatles dei primi anni che comunque andrebbero benissimo perché erano due minuti neanche scarse. Eh, però non erano tutti e quattro a fare un balletto. No, 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 però mi puoi mettere una parrucca, caschetto e fare un help o please please me. Fra poco andiamo in pausa perché siamo già la prima pausa della prima mezz'ora. Cosa succede però nella seconda mezz'ora? Ricordiamo che intorno alle 7.45 ci sarà la seconda puntata, la terza puntata. Terza, terza, terza puntata. Almeno è la terza puntata della rubrica di Filippo Poletti, Top Voice LinkedIn in collaborazione appunto con Good Morning Milano. dal titolo Buon Lavoro, Buon Lavoro perché è lunedì, quindi buone notizie sul mondo del lavoro e non solo per iniziare appunto bene la settimana lavorativa. Cioè sai che fatica che farà a trovare le buone notizie sul mondo del lavoro? Oggi come oggi, già è difficile trovare lavoro, già è difficile trovare le notizie e pensa alle buone notizie sul lavoro. Cioè veramente, complimenti Filippo Poletti che è andato a incasinarsi la vita da solo, perché insomma non era male cercare le notizie del genere. E invece no, ogni settimana ci porta, a noi ci porta solo due o tre notizie, ma lui su LinkedIn appunto dicevi poco fa, Top Voice, più di 3 milioni di follower che lo seguono giornalmente con tutte le sue rassegne di buone notizie sul mondo del lavoro. E ricordiamo che il video poi sarà su tutti i nostri profili social e probabilmente anche appunto su quello di Filippo Poletti. Perfetto, allora adesso appunto ci fermiamo per una piccola pausa, adesso è un momento di Irama, sai come si chiama questa canzone? Pam 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 pam. Pazzamusica, Marco Mengoni insieme a Deilo di 7 e 31 minuti, bentornati alla seconda mezz'ora di trasmissione qui su Crystal Radio, su Milano News. Questa è Good Morning Milano con Fabio Ranfi e Lorenzo Masieri. Eccoci, che è davanti ai giornali di informazione locale, siti di internet e qual è la notizia politica diciamo della giornata? La notizia politica di giornata per noi milanesi è che c'è un nuovo segretario del partito di maggioranza, perlomeno a Milano, che è il PD. Alessandro Capelli è stato eletto segretario metropolitano del partito democratico, ha battuto con il 66,5% dei voti lo sfidante Santo Minniti. Ricordiamo che Alessandro Capelli, diciamo che è più tendente alla posizione politica all'interno del PD di Elie Schlein. Aria Schlein. Aria Schlein, mentre Santo Minniti più, tra virgolette, diciamo riformista, più sulla corrente di Bonaccini. Ecco, quelle due anime nel PD a livello nazionale si riflettono chiaramente. O Minniti presidente del municipio 6. Minniti presidente del municipio 6. Alessandro Capelli era l'ex di Silvia Roggiani. Quindi c'è un po' di continuità. Un po' di continuità. Come si dice in questo caso. Hanno votato gli iscritti al PD, nelle loro belle sezioncine. Ieri sono state un po' di fare tutte le varie festiciuole in giro anche nelle varie sezioni del PD milanese, appunto per votare il segretario provinciale, anche quello regionale. Non siano ancora fosusciti i dati, ma credo che ci sia anche l'elezione di quello regionale, che poi ovviamente deve vedere arrivare tutti i voti da tutta la regione. E intanto leggiamo nove ore fa la dichiarazione di Capelli. Grazie, grazie di tutto. Prego. Grazie di cuore. Occhio di io dopo grazie perché poi grazie alla sensazione. Oggi inizia una nuova pagina per il PD Milano-Metropolitana da scrivere tutte insieme. Oggi ha vinto il PD, grazie a chi ha votato e grazie a chi ha tenuto aperti i circoli. Grazie a chi ha costruito questa strada con me dal primo momento e ha promesso di non lasciarmi solo. Grazie a Santo Minniti e a tutti i suoi sostenitori. Che è stato un mese intenso, impegniamoci a renderlo utile per il PD. Poco, rileggi il primo pezzo. Grazie da oggi una nuova pagina, dice? Sì, nuova pagina. Non è proprio carino. Tu sei quello che c'era prima, il vice di quello prima e dici che c'era una nuova pagina. Non mi piace tanto come dichiarazione. Però l'ultima frase è grazie di cuore a Silvia Roggiani che ci lascia un partito in forma e che sarà al nostro fianco da segretaria regionale. Ah, ecco, vedi che mi è passato dall'altra parte, ok. Vabbè, non lo so. Non mi convinto. Le dichiarazioni alla fine sono più meno tutte. Sì, sono sempre quelle. Mi ricordo, sono contento di essere arrivato uno quando arrivavano i ciclisti negli anni 50 e mi intervistavano al Giro d'Italia. Mi diceva sempre la solita cosa. No, non lo so, devo rifletterci, adesso ci rifletterò. Ma la politica c'è anche un'altra notizia che mi dicevi poco fa. La politica è un'altra notizia, un po' più di colore. Come anche il personaggio, diciamo, trasporto. Come è un solito dire. Sapete che il 39esimo piano di Palazzo Lombardia è stato intitolato lo scorso venerdì a Silvio Berlusconi. Il belvedere Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia è stato, non dico ufficializzata perché non si può ufficializzare di intitolare un ponte che non esiste ancora a Silvio Berlusconi, però è stata riproposta per l'ennesima volta, con ancora più vigore, l'intenzione di intitolare a Berlusconi il futuro, forse, ponte sullo stretto di Messina. E c'è stato però un grande assente, mi dicevi, a questa convention, che era l'ologramma. Che era l'ologramma di Silvio Berlusconi. No, ma spero, questa io me l'ero persa. Per fortuna che ci sei tu che mi riporti. Allora, ci dovrebbe essere un ologramma, qualcosa del genere, no? Avevano pensato di far aprire la prima convention di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi con un ologramma. Vabbè, dopo ce lo racconti, allora. Adesso è il momento di H7 e poi parliamo dell'ologramma. H7 Rock'n'Roll, 7,38 minuti qui su Crystal Radio. Vi ricordo, 331-78-535-555, il nostro numero di WhatsApp, a cui potete scrivere, mandare un audio, un messaggio, quello che volete. Numero che trovate anche sulla app per iOS e Android di Crystal Radio. Quindi c'è un pulsantino di fianco, potete schiacciarla mentre ci ascoltate tranquillamente. Lo trovate anche sul sito internet, che è quel sito internet che potete utilizzare per ascoltare Crystal Radio di nascosto dal vostro datore di lavoro, senza problemi. Voi aprite, poi iconizzate, nessuno si accorge. Dite, sono in call, sono in call. Invece ascoltate noi mentre state lavorando, oppure ci ascoltate magari dal tram mentre andate appunto al lavoro, sia con l'app iOS o Android, oppure dalla macchina invece, con la radio FM 96.2 oppure DAB+. Pensavo sia guidandolo che dal passeggero. Non credo che gli autisti di a me possano ascoltare la radio. Non dico niente. Ho questo dubbio, non credo che possano. Non credo proprio che sia licito. Comunque, se smontate il turno adesso, o montate il turno fra qualche minuto, potete ascoltarci invece tranquillamente, anche dalle vostre autoradio, con appunto, dicevo, FM e DAB+. Se no, volendo, esiste il sito di Milano All News, milanoallnews.it, dove potete rivedere tutto quello che è stata la mattinata, o le mattinate passate, ma anche volendo, sui nostri canali YouTube e il canale Twitch, in diretta, potete vedere i nostri faccioni, soprattutto non tanto noi, ma quando poi alle otto e mezza arrivano gli ospiti. Insomma, è interessante seguirci in quella frangente, oppure fra qualche minuto quando appunto ci collegheremo con Filippo Poletti. Ho fatto un riassunto veloce con tutte le modalità che ci sono per ascoltarci e per vederci. Ma noi abbiamo lasciato la cuina in bocca ai nostri ascoltatori. Infatti, parlavamo di questo mancato appuntamento durante la convention. Usciamo un po' da Milano, perché dov'è che era? A Pestum. Ma Pestum, famoso Pestum con l'aglio senza aglio. Mamma che brutta questa. E comunque, cosa è successo? Raccontacelo bene. Velocemente, pochi giorni fa... Raccontacelo bene, velocemente. Pochi giorni fa, degli organizzatori ad ADN Cronos avevano detto che alla convention appunto di Forza Italia annuale a Pestum sarà allestita una ventola orografica di circa 60 centimetri che proietterà, sto leggendo testualmente, l'immagine tridimensionale dell'ex premier scomparso. La sua sagoma sarà trasparente come se fluttuasse e saluterà chi entrerà alla convention. Sbagliato completamente tutto il tempo del verbo perché era sarebbe dovuto stare, giusto? Sarebbe dovuto stare? Doveva esserci un piccolo Jedi che nasceva al proprio... A me viene in mente quell'immagine lì, c'è uno P8 che è il reddito di due che proietta la principessa Leila e invece qui proiettavamo Silvio Berlusconi. Chiaramente una notizia del genere ha fatto parlare di sé e pare, la stessa ADN Cronos, dice che per volere dei figli alla fine si è anaufragata questa idea. Adesso sappiamo benissimo che quando vengono annunciate delle cose poi vari giornali le riportano, crea comunque, possiamo dire, forse non era... Anche per chi vuole tributarlo, comunque forse non era la maniera migliore. Ecco, piuttosto il vedere Berlusconi. Adesso l'ologramma un po'... L'ologramma mi sembra un po' fuori luogo. Un po' fuori luogo, esatto. Però sembra appunto che per parere dei figli questa idea si è anaufragata e quindi convention di Forza Italia Pestum senza l'ologramma di Silvio Berlusconi. Ma tanto però Silvio Berlusconi è presente. Tanto Silvio Berlusconi è presente perché statuette, quadri, eccetera, comunque c'erano. Ma questo... No, ma diciamo che quindi se la sta giocando con Padre Pio, cioè da una parte Padre Pio e dall'altra Silvio Berlusconi stanno giocando per chi avrà più statuette alle varie convention. No, comunque... Questa dell'ologramma comunque veramente è assù, cioè... Io mi chiedo ma come ti può venire in mente anche... Ma poi tra parentesi adesso mentre leggevi cioè io pensavo una roba tipo i Gorillaz, no? Cioè invece no, 60 centimetri quindi un baby Berlusconi cos'è? Cioè una roba veramente senza senso, cioè... Meno male che i figli hanno un po' di sale in zucca e le hanno detto forse... Sembrerebbe poi... No vabbè speriamo... Voglio credere che sia stato così. Ricordiamo che stiamo parlando di questo perché appunto alla convention di Forza Italia è stato annunciato per l'ennesima volta che il futuro, forse, ponte di Messina sarà intitolato a Silvio Berlusconi. E' una delle proposte e poi adesso dubito che questa proposta abbia la strada spianata. Quali sono le altre proposte poi? Lorenzo Masieri? A chi vogliamo intitolare un ponte inesistente? A Mimmo Balduccio? A chi vogliamo, cioè non lo so... Ci saranno anni davanti per scegliere a chi intitolare. Mi piace intitolare una roba che non esiste... Comunque siamo veramente un popolo. Siamo un paese fantastico. Come diceva lo Stato Sociale tempo fa. Siamo un paese magnifico. Comunque, anzi, Open to meraviglia veramente in questo caso. Perché veramente intitolare qualcosa che non esiste a qualcuno che non c'è più... Cioè, geniale, geniale. Continuiamo con la musica? Geniale. Geniale, geniale. Continuiamo con la musica? 7.43 minuti, Crystal Radio. Crystal Radio.it, FM 96.2 e anche Milano News. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero Whatsapp. Vi aspettiamo. Iscriveteci cosa state facendo, dove siete andando, dove siete, cosa fate? L'Ill Nass con Old Town Road. Ammestamente se ne va così. Inizia e dopo un attimo... Un altro battito di ciglia. Un altro battito di ciglia, per non dire di peggio. Nello spazio. E se ne va così. Invece arriva. Arriva. E non con battito di ciglia, ma con le sue buone notizie. Chi? Filippo Poletti, Top of Voice, LinkedIn. Buon lavoro a tutti. La prima parola dalle settimane è eccellenza. È uscita la classifica, stilata da Statista, in collaborazione con i Magazine Time, sulle migliori aziende al mondo. Figurano 23 aziende italiane. Tra queste 23, 10 sono milanesi, ossia sono nate oppure hanno sede a Milano. Eccole. A2A, Enifineco, Prismiam, Intesa San Paolo, Unicredit, Pirelli, Prada, Snam e Amplifon. Qui, secondo la classifica, si lavora in un clima positivo, cresce il fatturato e si ha attenzione ai temi della sostenibilità. La seconda parola chiave è riconoscenza. È il caso di Gattinoni Viaggi, l'azienda che ha sede in Via Statuto 2 a Milano. Il fondatore e presidente, Franco Gattinoni, per celebrare i primi 40 anni di attività dell'azienda ha portato i dipendenti in un hotel a 5 stelle a Courmayeur. Per loro, attività di team building è relax. La gratitudine sul posto di lavoro è sostanza, mai forma. La terza e ultima parola chiave è smart working. Secondo gli osservatori del Politecnico di Milano, lo praticava l'81% delle grandi aziende in Italia. Questa cifra è salita al 91% oggi. Diverse aziende, anche con sede a Milano, praticano lo smart working. Pensiamo al modello Microsoft, a Cisco, a Siemens, oppure alla Nestle di Asago, che ha introdotto il FAB Working, acronimo di flessibilità, adattabilità e bilanciamento. In sostanza, in ufficio si va per incontrarsi, scambiarsi le idee, come si dice il fare brainstorming, ma i compiti si fanno a casa o dove è possibile. Almeno nelle grandi aziende, anche milanesi. Buon lavoro a tutti. 8 e 15 minuti, ben ritrovati qui su Crystal Radio, in diretta sempre dagli studi di San Siro, di Milano All News. Qui con noi, già in studio, e lo vedete anche per chi è collegato su milanonews.it, l'avvocato Giovanni Motta. Buongiorno, avvocato. Si, buongiorno, anche senza il titolo, va bene, va bene, grazie. Ma perché, scusi, perché? No, 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 ci teniamo. Ci teniamo perché, soprattutto, oggi tocchiamo un tema importante, interessante, difficile, perché diciamo, è un tema comunque difficile, e quindi, giustamente, ci avvaliamo dell'avvocato, così ci serve, in questo caso, il suo titolo, no? Giovanni, allora, oggi parliamo di CPR. Sì. Velocessimamente ricordiamo che cosa sono i CPR. Allora, io sono qui come in veste di, rappresento la rete mai più lager, no, i CPR, che da ormai, da settembre 2018, quindi da cinque anni, è sempre sul pezzo per cercare di informare sulla cittadinanza milanese, e non solo, sui CPR, i centri di permanenza per i rimpatri, perché a Milano, anche se ho passato, il CPR è aperto a Milano nel 2020, settembre 2020, pandemia, quindi, abbiamo aperto in pandemia il CPR. A Milano sono i centri di permanenza per i rimpatri, ovvero, sono delle carceri dove vengono detenuti in via amministrativa, si dice così, detenzione amministrativa, persone straniere, solo persone straniere, che vanno in quel posto, che si chiama CPR, in via Corelli a Milano, dove ogni diritto viene annichilito. Io sono senza documenti perché non sono riuscito ad aggiornare il mio promesso giorno perché ho perso il lavoro, controllo notturno, questo è l'esempio che ho già fatto qui, ma è quello più calzante, mi fanno il controllo notturno, ops, non ho i documenti, vado al CPR, che è come un carcere. Chiunque senta, una persona straniera che è stata lì dice che è peggio del carcere, perché il carcere ha un suo regolamento, c'è il regolamento penitenziario, i CPR no, ci sono dei regolamenti, se c'è per il carcere la legge e la fonte primaria, sono invece per i CPR, sono regolamenti, sono amministrativi. Circolari. Esatto, circolari ministeriali, che possono cambiare, cambiano, e quindi si vive in una sorta di... Giovanni, vediamo se ho capito bene, io faccio sempre questo esempio. Ecco, mi fermano e, perché sono un po' distratto, non ho fatto la revisione alla macchina, si accorgono che non ho la revisione alla macchina e, a parte sequestrarmi la macchina, mi portano e mi mettono dentro. E ti ingabbiano. Purtroppo è così. In una gabbia fatta apposta per quelli che non hanno revisionato la macchina, perché quello, no? Cioè, non mi mettono insieme ai ladri, a quelli che hanno fatto gli altri, perché, appunto, io non ho fatto niente di penalmente perseguibile. Ho fatto un illecito amministrativo. E quindi tu vieni, tra l'altro, gestito da privati, che vincono appalti a ribasso. Ok, quindi immagino come fai a vincere un appalto a ribasso, facendo meno di quello che serve da fare, no? Con un appalto a ribasso io mi ritrovo in un posto dove probabilmente non ho assistenza sanitaria, perché l'assenza sanitaria è l'unico... Questa è la parte più grave su cui noi, come Rete Mai Piolagher, abbiamo molto insistito e che ha avuto anche, come dire, ecchi anche nei media nazionali. Alla fine tu diventi una persona a cui viene somministrato psicofarmaci. Ecco, perché questo? Perché la situazione è così pesante per un qualsiasi essere umano, insostenibile, che poi alla fine si arriva a quello. Esatto, perché c'è visto anche, Regnuso ha fatto anche un reportage a fine settimana scorsa, perché per evitare le ribellioni, perché poi stiamo parlando di giovani uomini di 20, 25, 30 anni, che si ritrovano in un posto che noi chiamiamo lager, ma che lo è, in fin di conti, perché dormi per terra, non hai alcuna assistenza, non hai l'avvocato. Fortunatamente c'è il centralino del Naga, ma chi è che è difficile? Poi c'è chi è che lo conosce il centralino del Naga? Se sono arrivato in Italia magari da poco, oppure non ho un avvocato a cui rivolgermi, e quindi io... La cosa che sembra che questo comunista qua di Giovanni Motta, che usa questi paroloni, non è solo parole sue, giusto? Queste sono parole di senatori, di gente che è stata lì dentro, perché l'assurrità di tutta la storia è che lo stesso Stato si è autodenunciato per questa cosa, spiegaci un po' come è stato il Garante, giusto? Cioè il Garante Palma sicuramente ha speso nei suoi relazioni annuali parole dure nei confronti della gestione dei CPR, sulle carenze totali, stiamo parlando di cittadini a cui vengono sottratti i diritti. Poi cittadini stranieri, questa è la cosa ancora più clamorosa, perché è una determinata categoria di persone. Che non esiste poi a livello giuridico straniero, no? Cioè cosa vuol dire? Allora, perché poi detenzione amministrativa sembra quasi uno, scusate la parola un po' strana, uno simor, cioè una contraddizione. Cioè detenzione però per via amministrativa, per una determinata categoria di persone. Purtroppo non c'è solo in Italia, c'è solo in Europa. Ah sì, su questo siamo moderni, ahimè, no? Sì, purtroppo la gestione, e poi ne parleremo magari dopo, la gestione dello straniero è diventata una gestione detentiva. Io non so come regolare il flusso migratorio, e allora detenzione amministrativa. Ti butto dentro e butto via le chiavi. Infatti stavo dicendo, se sembra troppo la parola lager, vi invitiamo appunto, come stavamo dicendo prima, andrà a vedere sulle varie pagine social di Mai Più Lager, noi CPR, le condizioni, le foto crude che vengono postate appunto su tentativi di autolesionarsi, chiaramente. Esatto, perché poi, lì poi c'è un'espressione, fare la corda, cioè è il tentativo di suicidio, che è giornaliero. O anche solo di poter, io cerco di, faccio la corda anche per poter accedere a un medico, andare al pronto soccorso. Per poter evadere. E poi essere curato, innanzitutto. Innanzitutto curato, perché poi un'altra delle difficoltà del CPR, delle cose più incredibili che succedono, allora io per entrare in un CPR devo sostenere una visita di idoneità. Questa visita però di idoneità è assolutamente proforma, cioè entrano tutti, nessuno, tu non puoi entrare. Quindi abbiamo avuto persone che alla fine abbiamo scoperto un tumore, o gravi problemi psichiatrici, eccetera, eccetera, eccetera. Diventa una discarica. Scusate proprio la brutalità. Alla fine diventa una discarica e quindi io metto, alla fine tutti gli emarginati sociali li metto lì dentro. E quindi c'è il tentativo di suicidio, perché mi ritrovo, magari sono qui in Italia da vent'anni e mi ritrovo qui, per terra, senza cibo, tra gli escrementi, in vari CPR se ne è parlato. E quindi questo è, noi ne abbiamo anche denunciato settimana scorsa, nel presidio davanti alla Prefettura mercoledì scorso, un'altra volta noi abbiamo fatto vari presidi in nostra attività. Quelle foto è perché al CPR di Milano, i video, il CPR di Milano, grazie a un'azione giudiziaria fatta da Asgi, se i detenuti, perché tali sono, i detenuti possono avere il cellulare. Perché fino a poco tempo fa, la prima cosa che veniva tolta a chi entrava, giusto, erano tutti gli effetti personali, compreso il cellulare. O spaccare la videocamera, in modo che non facessero il male. Quindi c'è stata un'azione giudiziaria, il Tribunale di Milano ha detto, no, la libertà di corrispondenza, di comunicazione del CPR, anche perché è detenzione registrativa. Ricordiamo quante persone, qual è la capienza del CPR di Milano? Allora, il CPR di Milano varia. Allora, attualmente siamo sempre intorno fra i 40 e i 50. La detenzione, intorno ai 100-120, si è arrivato al massimo. Poi, alla fine, quanti ne vengono, facendo anche un ragionamento proprio pratico? Quanti arrivano alla R? Cioè, 100 per manenza, tanti? L'espulsione, per l'espulsione siamo appena sotto il 50%. Ok. E poi gli altri riescono. Quindi hanno fatto questo girone infernale per 90. Adesso, con la nuova legge, è stata prorogata, si è prorogata a 18 mesi. A 18 mesi, un anno e mezzo. Non 90, 120 come attualmente, ma 180. Hanno aggiunto 30 giorni subito col decreto cutro. Poi adesso non andava bene, siamo arrivati a 18 mesi. Un anno e mezzo. Poi, se non c'è l'accordo di rimpatrio, l'Italia, con il paese della persona detenuta, poi alla fine escono. Magari ti fanno uscire alle due di notte, ti ritrovi per stare. Magari non sei mai stato a Milano, perché può essere... Io fanno il controllo in Molise e mi ritrovo a Milano. E mi ritrovo così, senza effetti personali, senza nulla. Mi ritrovo così, mezzo di notte. Tra l'altro poi ricordo che i detenuti perdono anche il diritto al nome all'interno. Li chiamano per numero. Forse l'agri appunto non è una parola così a caso, infatti. Fandiamoci un secondo, siamo qui sempre su Crystal Radio, torniamo fra pochissimo sempre con l'avvocato Gianni Motta, sempre a parlare di CPR, soprattutto in questo caso del CPR di Milano. Francesca Michelin, Stato di Natura, insieme ai Maleskin, alle 8 e 31 minuti qui su Crystal Radio, 96.2 FM e Dub Plus, sito internet, app per iOS e Android e anche su milanoallnews.it. Ben ritrovati, bentornati. Siamo qui insieme all'avvocato Giovanni Motta della rete, mai più lager, no CPR. Ecco, l'ho detta giusta, l'ho detta. Allora, stavamo parlando appunto del presidio che avete fatto quando? Mercoledì scorso, che era il 27 di settembre, nei prezzi della prefettura, perché ricordiamo, questi, lo dicevo prima, sono gestiti da piccole cooperative che vincono, ma da piccole, alcuni CPR sono gestiti da grandi multinazioni, grandi colossi, invece a Milano sempre piccole cooperative, ma ovviamente però dovrebbe esserci il controllo poi della prefettura, ovvero del Ministero dell'Interno. E infatti durante il presidio è stata consegnata una lettera alla prefettura, se ci puoi giusto elencare. In quella lettera, in quella breve lettera che abbiamo, sostanzialmente c'era quello che vi ho appena detto nei minuti precedenti, cioè l'emergenza, non sono l'immigrazione, l'emergenza viene creata ad arte, viene creata ad arte, si crea questa emergenza e noi abbiamo denunciato ancora una volta alla prefettura che c'è un posto, si chiama CPR in Corelli, dove vengono annichiliti i diritti fondamentali, dove vengono sedate le persone, c'è una sedazione sostanzialmente collettiva, persone che vengono, poi perdo anche il diritto al nome, perché è il numero 785, hai la visita dal medico, quando c'è, e questo abbiamo denunciato, è stata l'ennesima lettera di denuncia, lo faremo anche martedì, domani, il 3 ottobre, si ricorda la strage di Lampedusa, noi saremo in piazza, anche noi, per ricordare che esistono i CPR, in piazza Duca d'Aosto, domani alle 6 e mezza, e quindi noi ricorderemo questo, perché poi alla fine, sbarchi, poi alla fine c'è il CPR, una volta facciamo una manifestazione, alla fine c'è il CPR, ci sono stati problemi, c'è il problema della sanatoria, il sanatorio del 2020 è ancora in corso, non è ancora chiuso, del 2020, c'è le questioni dei permessi, gli sbarchi, gli arrivi, ma alla fine poi c'è il CPR, a Milano c'è il CPR. Ecco, detto a Milano, giustamente, io però sai che ho sempre questo tavolo, vabbè, la lettera non avete avuto risposta, immagino, credo ancora, e forse diciamo che non siete così disillusi, siete così illusi anzi da pensare a dire, ma invece lì la politica locale, cioè gli amministratori locali, il sindaco, l'assessore, cioè cosa dicono di questo CPR? Sarà bello, allora dicono nulla, c'è stato un ordine del giorno, mi ricordo, ancora prima che aprisse, e poi alla fine non è mai successo nulla, il sindaco Sala, anzi no, era favorevole al CPR, e quindi ha detto va bene, non ha mai avuto, non ha mai speso parole contrarie all'apertura del CPR, o al mantenimento del CPR, che è il nostro sindaco, il sindaco di questa città, mai, e poi il consiglio comunale, neanche un ordine del giorno, alla fine, l'ultimo è stato cinque anni fa, ancora prima che aprisse, o quattro anni fa, le autorità locali, le nostre rappresentate, nulla, silenzio totale, forse perché i CPR sono poi stati aperti con il decreto ominito, orlando, infatti io volevo chiedere, una domanda più, mettiamola giù in maniera più politica, siccome appunto è regolato da, sostanzialmente circolari, dicevamo, in onda e fuori, cosa cambia tra un governo, vabbè, in questo caso sappiamo che i riflettori sono riaccesi sulle vicende del CPR in maniera recente, però da un governo sostanzialmente di centro-sinistra, da un governo di destra, di centro-destra, chiamiamolo come vogliamo, cambiano effettivamente le cose per i CPR, per la rata dei CPR, perché la mia impressione è che non sia così. Eh no, allora, il CPR nasce con la legge turco-napolitano, nel 1998, testo unico di immigrazione, articolo 14, testo unico di cos'è il CPR, poi alla fine è la vita all'interno, proprio sono quelle famose circolari di cui dicevo prima, a differenza del carcere c'è l'ordinamento penitenziario, e quindi dal 1998 c'è stata l'apertura, poi a Milano, mi ricordo, che poi non si chiamava, poi ha cambiato vari nomi, CPTA, CPT, CE, CPR, ha avuto aperture, chiusure, aperture, chiusure, e quindi, ma alla fine sono i 25 anni di apertura, dicevamo anche prima, di questi centri di permanenza, ma alla fine, alla fine i vari governi che sono succeduti sono sempre quelli, non è cambiato molto, adesso è arrivata l'esplosione col governo Meloni che addirittura ha prorogato, addirittura vorrebbe prorogare 18 mesi, 18 mesi, adesso sono 90, 120, più 30, a 18 mesi la permanenza, la detenzione di persone straniere in questi, in questi, in questi lager, non è cambiato molto, sono 25 anni di detenzione amministrativa che poi passa anche molto sotto sinezio, in questo caso però appunto i fanali, cioè i fanali, le luci, si sono riaccetti, i riflettori, esatto, i fanali, si sono riaccetti sulla vicenda, la sua macchina, giustamente, sulla vicenda dei CPR, fuori onda appunto stiamo parlando dei famosi 5 mila euro di cui si sta parlando recentemente che poi alla fine con i CPR, e allora perché poi ci sono queste esplosioni di attenzione mediatiche allora facciamo un po' d'ordine, no? Stiamo facendo informazioni quindi è doveroso puntualizzare. Allora, famoso decreto Cutro che nasce sulla strage di Cutro, hanno fatto un decreto e l'hanno chiamato Cutro, vabbè, no comment, vorrei fare dei commenti ma siamo in onda. Manteniamoci su un certo livello si possono comprendere. Allora, è stato convertito in legge 40 del 2023. Allora, questi famosi 4.900 euro non è per chi arriva al CPR di Ponte Galleria, Milano, Macommer, Gradisca, cioè quelli aperti, Brindisi, Trapani, Caltanissetta. Allora, che cosa dice? se uno straniero che cerca di eludere i controlli o non ha il passaporto viene dai cosiddetti paesi sicuri, tra cui la Tunisia, dove c'è un regime, un paese allo sfascio, c'è un dittatore, considerarlo sicuro, viene, allora, viene, come dire, elude i controlli, viene il paese sicuro, non ha il passaporto, si apre una procedura che si chiama accelerata, come i treni di una volta, i treni accelerati, ma qui è molto veloce, perché entro 28 giorni deve chiudersi, cioè io devo fare la richiesta di asilo, se viene respinta, c'è il ricorso all'autorità giudiziaria, ma lo fa, io dove, io straniero che faccia la richiesta, dove lo fa, dove rimango in quei 28 giorni teorici all'interno di una struttura, adesso è stata aperta Pozzallo, che sembra molto un CPR, non è un CPR, ma è, pare, una struttura che sarà molto simile a tutte le strutture che sono aperte in questi anni, però posso evitare di entrarci se io ho questi famosi 4.900 euro, però non in contanti e non pagati da terzi, ma se ho la fiduzione bancaria e una garanzia assicurativa, cioè io arrivo da Indonesia, con la mia fiduzione bancaria evito almeno di entrare, questo io non lo so come poi accadrà, sappiamo notizia dell'altro giorno che già il Tribunale di Catania ha disapplicato questa legge dicendo no, i contrari principi dell'ordinamento comunitario e quindi i tre tunisini che avevano fatto sono stati scarcerati dal Tribunale, non dalla Procura, stamattina sentivo Sky TG e diceva Procura, no, dal Tribunale, noi siamo a Milano News, Cristal Radio, diciamo per cosa precisa. Perfetto, perfetto. Insomma, il tema appunto è abbastanza complicato, lo dicevamo, però bisogna tenere appunto i riflettori sempre accesi su un tema a cui, come dicevi tu Giovanni, si stanno accennendo i riflettori, ma bisogna anche stare attenti poi a chi li accende a cosa dice perché appunto poi le inesattezze è semplicissimo inserire in un tema del genere. Voi della rete, insomma, state facendo tante attività, prossima attività c'è qualcosa che volete raccontarci? Allora, noi saremo già, dicevo, come rete mai più lagre, noi CPR, saremo già domani sera in piazza, anche noi, ricordo in Lampedusa, porteremo il nostro striscione, ricorderemo che alla fine poi c'è sempre un CPR, poi soprattutto a Milano, piazza Duca d'Aosta domani alle 18.30, saremo anche il 10 ottobre al Cinema Beltrade alle ore 20, ci sarà un documentario in cui si parlerà dei rimpatri, poi cosa succede a poi gli stranieri che ritornano in patria, cioè sui rimpatri e interverremo come rete, poi noi facciamo interventi ovunque, nelle scuole, andiamo all'università, facciamo report, andiamo in giro per l'Italia, l'altro giorno è arrivato, dovremmo andare alla Spezia, novembre, quindi ci siamo richiesti in tutta Italia, seguite i nostri social, c'è anche una pagina, c'è un link 3, no CPR, in cui ci sono tutti i nostri documenti, quindi noi cerchiamo sui nostri social, avendolo, possiamo, ci sono i video che ci mandano purtroppo i detenuti delle condizioni allucinanti, uno degli ultimi avrete potuto vedere, c'era questo signore che non uscìva neanche a mangiare, perché era talmente sedato dagli psicofano, non uscìva neanche a mangiare, cadeva quasi dal sonno, o gente, vabbè poi, i pestaggi che sono all'interno sono all'ordine del giorno. Tutto questo appunto sui social, sulle pagine, informazione, vorrei dire, di mai più lager, no CPR, grazie mille Giovanni, grazie mille per la vostra testimonianza, seguiteli, seguiteli, io dico questo, seguiteli qualsiasi idea voi abbiate, perché poi, da lì, ne trarrete le conclusioni, perché poi, vabbè, uno può essere d'accordo o non d'accordo con i flussi, non i flussi, gestiamoli in una maniera, gestiamoli nell'altra, apriamo i porti, guidiamo i porti, ma poi, come dice giustamente Giovanni, alla fine c'è sempre un CPR e in questo caso si capisce dove la mala gestione di un tema importante come l'immigrazione, bipartisan, una mala gestione bipartisan, mi viene da dire, porta a queste conclusioni. L'attenzione mediatica non deve essere su prendo una parte piuttosto che l'altra, ma su, come dici te, esiste un CPR e vediamo cosa c'è dentro. Speriamo che non scemi subito. Benissimo, allora dai, grazie mille Giovanni, davvero, alla prossima, continuiamo qui su Crystal Radio o adesso è il momento di Oliver Edens con Blue Monday.